La storia e la progressione dell'umanitario nel rispetto delle diversità. Un tema delicato e di grande attualità al centro di un incontro promosso dal dirigente del liceo scientifico Carlo Cafiero di Barletta, Salvatore Citino, con la presenza di un oratore d'eccezione, il funzionario Unicef Sean Hepburn Ferrer, figlio della star di Hollywood Audrey Hepburn. Proprio partendo dall'impegno umanitario di sua madre, ambasciatrice Unicef dal 1988 al 1993, anno del suo decesso, e protagonista di diverse missioni in tutto il mondo, finalizzate a fornire servizi di base a bambini poveri e malnutriti, Sean Ferrer ha illustrato quelle che sono le nuove modalità di sostegno ad Unicef e dalle associazioni benefiche. Oggigiorno il sistema del sociale sta cambiando, sta seguendo le stesse trends e le stesse possibilità che ha l'industria e sta progredendo anche lui, dove grazie al blockchain un domani potrai mandare dei soldi, una micro donazione, perché non ci sarà più questo minimo di 3 euro per fare un trasferimento bancario, potrai mandare tante persone che potranno mettersi insieme all'ora del pranzo, mandare 10 centesimi e in pochi secondi vedere i risultati, senza tanti intermediari, persone che poi devono portare e fare eccetera eccetera, dare a lui il potere di risolvere il suo problema e creare questo meraviglioso network, questo ecosistema dove tutti facciamo parte. L'incontro con gli anulni del liceo Barlettano è stato anche l'occasione per riflettere sulle prospettive delle nuove generazioni, destinate a gestire lo sviluppo di una civiltà sempre più globalizzata. E sviluppare e capire l'opportunità che la gioventù di oggi ha, perché questa disruption, creative destruction, disgregazione che viviamo oggi sta succedendo, possiamo andare al caffè a risultato, fa finta che non succede, ma il solare sta crescendo, raddoppiandosi ogni anno, siamo quasi quasi al 50%, per il 2022, 23, 24 sarà al 100%, viene decentralizzato tutto il sistema finanziario grazie al blockchain, viene decentralizzata la produzione grazie ai 3D printers. Questi ragazzi sono la prima generazione nella storia del mondo, della nostra memoria, che avranno veramente una pagina bianca e la possibilità di disegnare qualche cosa.